Il divulga fiore, informazioni verificate. Poche aziende ancora dalle nostre parti sono data driven, guidate dai dati, tra le filiere culturali e se vogliamo conoscere degli esempi virtuosi dobbiamo guardare oltre Alpe, specialmente nel Regno Unito. Applicando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e di raggruppamento delle informazioni fornite da enti di beneficenza in Inghilterra e Galles al momento della registrazione, uno studio ha analizzato gli ambiti in cui operano le organizzazioni benefiche artistico-culturali. Queste organizzazioni sono state identificate a partire da una popolazione totale di quasi 360.000 enti, registratisi tra il 1962 e il 2018 ed è grossomodo lo stesso numero che corrisponde proprio agli attori del terzo settore in Italia che operano nelle filiere culturali. Quali sono i risultati? Le organizzazioni sono di taglia micro o media, le attività vengono svolte anche per pubblici specifici, ben precisi non solo per un pubblico generalista e inoltre con queste attività artistico-culturali si risponde anche e ci si occupa di sfide sociali. La mappatura che è stata ottenuta potrebbe così consentire a finanziatori e operatori di beneficenza di trovare altre organizzazioni che corrispondono e che promuovono cause simili, di studiare anche come tali enti raggiungono gli obiettivi e infine di identificare nuove missioni emerse dal basso verso cui indirizzare nuovi finanziamenti. Quindi un caso esemplare di dati che aiutano a indirizzare in maniera più intelligente le proprie risorse. Ma parliamo adesso di un altro esempio proveniente sempre dal Regno Unito, una ricerca che ha indagato l'impatto economico dell'infrastruttura culturale a Londra. Quali fonti di big data sono state utilizzate? La mappa dell'infrastruttura culturale della city e poi i database di Airbnb e di Google. Si è dimostrato che la maggiore densità di queste strutture, di queste infrastrutture contribuisce positivamente sia alla domanda sia all'offerta di alloggi. Ma dobbiamo aggiungere un'altra cosa perché si è visto in questo caso anche e si è dimostrato senza tema di smentita che l'impatto della cultura sull'economia ha anche una valenza psicologica perché passa sempre dalla sfera cognitiva, valoriale e comportamentale delle persone. Non possiamo far finta che non esista. Iscriviti al canale e attiva le notifiche.